Attimi di grande paura a Livigno le fortissime raffiche di vento in pochi secondi sono passate da 50 fino a 140 all'ora strappando un seggiolino della seggio via Sponda e facendolo cadere nella neve poco prima della stazione di monte. Il sistema di sicurezza ha funzionato e con l'arrivo del vento forte l'impianto si è bloccato. Fortunatamente non si sono registrati feriti. La neve è tornata a cadere nel fondo valle valterinese. Ecco le immagini girate oggi a mezzogiorno e mezzo alle porte di Sondrio. I fiocchi si sono depositati sulle lastre di ghiaccio presenti in città aumentando il rischio di cadute per i pedoni. La prima nevicata a bassa quota del 2018 ha creato non pochi problemi alla viabilità con tempi di percorrenza che si sono dilatati. Code e forti rallentamenti vengono segnalati dalla postata di Sondrio sulla 38 all'ingresso di Tirano. E' infatti iniziata la prima parte del controesodo dei turisti che hanno trascorso le festività in Alta Valtellina. Il picco verrà toccato nel prossimo weekend. Il Foscagno così come i passi del Maloia, del Bernina e dell'Aprica sono transitabili con gomme termiche e catene al seguito. Anas ricorda che fino a domenica 7 gennaio il tratto di Statale 36 compreso Fratteggiate e Montespluga è chiuso dalla mezzanotte alle 8 del mattino seguente per rischio slavine. L'abitato di Madesimo è raggiungibile anche in orario notturno.